Benvenuti a questo nuovo video riguardante i sensori per Arduino. Abbiamo un kit che sono 37 sensori per Arduino e un po' alla volta sto trattando tutti gli argomenti. Oggi tratteremo l'argomento che riguarda un modulo di sensore magnetico ad effetto HOLD con la sigla KY003. Il modulo più che un sensore è un interruttore magnetico ad effetto HOLD. Il modulo dispone di un pin digitale di uscita, eccolo qua dove c'è scritto SIGNAL, che varia il suo valore in presenza di un campo magnetico. Il modulo ha anche un LED, eccolo qui, anche un LED che indica quando il campo magnetico è rilevato. Il pin digitale di uscita varia ovviamente il suo valore se c'è o no più o meno la presenza del campo magnetico e si avranno due stati logici. Assenza di campo magnetico e il piedino è già in uscita I. Quando assente un campo magnetico l'uscita diventa low. Tale livello logico viene segnalato dall'accensione del pin, del pin del LED che si trova direttamente sul modulo. Qui c'è un'immagine che ci fa vedere che se il magnete è in assenza di campo magnetico il pin è high, in presenza di campo magnetico il pin è low. Questo è lo schema di collegamento più semplice possibile dove abbiamo il pin, abbiamo il pin di segnalazione, del segnale collegato a 2, non possiamo collegarlo in qualsiasi ingresso di Arduino. Abbiamo l'alimentazione a 5 volt che si trova sul pin centrale e abbiamo il ground che invece è messo su quello di sinistra dove trovate la lettera meno. Ecco, qualcuno si chiederà perché sto introducendo così, perché siccome il video è didattico, piuttosto che far vedere solo la parte finale, l'effetto finale, volevo parlare un po' anche della parte teorica. Così che ci sia una parte introduttiva teorica, più che altro informativa e poi la realizzazione pratica. Così se queste informazioni non sono di vostro gradimento, passate pure avanti e andate a vedere la parte finale. Per quelli che invece può interessare, l'effetto Hall è utilizzare il sensore. L'effetto Hall è un effetto elettromagnetico, come trovate scritto, non sto facendo altro che leggere quello che ho già scritto. E fa riferimento alla tensione misurabile attraverso un conduttore o un semiconduttore. Quando una corrente elettrica vi scorre, è influenzata da un campo magnetico. In sintesi, cosa fa l'effetto Hall? Cosa misura l'effetto Hall? Riguarda la formazione di una differenza di potenziale tra le opposte facce di un conduttore elettrico. Tale differenza è attribuibile ad un campo magnetico che si pone perpendicolarmente rispetto al flusso della corrente. Cosa fa il fenomeno Hall? Il sensore all'effetto Hall si sviluppa su tale fenomeno. Il componente è in grado di rivelare se il campo magnetico è generato e la differenza di tensione, producendo un segnale in uscita. Infatti, utilizzando l'effetto Hall in un circuito integrato, è possibile misurare l'intensità del campo e creare una vasta gamma di circuiti integrati. Utilizzi quali possono essere, ad esempio, la posizione semplicemente di un oggetto, la rivelazione della velocità di rotazione di un motore elettrico, l'avvicinarsi di una barriera magnetica e molte, molte altre soluzioni. Utilizzi. Questo qui è lo sketch per rilevare il campo magnetico. Abbiamo la prima parte dove andiamo a dichiarare le nostre variabili. Aggiungiamo un LED, oltre al LED che è presente direttamente sul modulino, e lo colleghiamo, ad esempio, al LED 13, perché il LED 13 accanto non ha bisogno di una resistenza di pull down o di pull up, in quanto è già prevista di una resistenza di pull. Abbiamo il sensore, che chiamiamo sensor, potremmo chiamarlo anche Giuseppe, l'importante è che sappiamo che è il sensore magnetico, e lo mettiamo al pin 3. Int vale la variabile numerica che valirà in base alla presenza o assenza del segnale del sensore. Poi dichiariamo sul Void Setup le varie modalità. Diciamo che il LED è un output, il sensore è un input, e aggiungiamo anche il monitor seriale con l'inizializzazione serial begin, velocità di trasmissione 9600 Vaud. Poi c'è il loop, che è il programma che viene ripetuto continuamente, gli diciamo che il val, quello che abbiamo dichiarato sopra, non è altro che la lettura digitale del sensore, quindi andiamo a vedere se il sensore è 0 o il sensore è 1. Poi c'è il if, le condizioni, se il valore è low, cioè quando il sensore rileva il campo magnetico, abbiamo visto all'inizio che il segnale diventa low se rileva il campo magnetico, cosa deve dire fare? Deve allora mandare un segnale, un digital write, dove ha LED, non ovviamente a LED del modulino, perché quello è autonomo, ma a LED collegato su Arduino, sul pin 13. E inoltre mi deve scrivere sul monitor seriale il messaggio presenza campo magnetico. Aggiungiamo una, un ritardo di un secondo per ogni acquisizione del nuovo valore. Se la situazione non è questa, cioè se il campo magnetico non c'è else, allora il LED del suo Arduino si spegne e sul monitor seriale mi scrive no campo magnetico e c'è ancora un ritardo di un secondo. Ecco, questo è il mio Arduino semplicissimo, Arduino Uno, come collegato, questo qui è il mio LED su Arduino, sul 13, questo qui è il mio modulo per il campo magnetico e basta. Poi ovviamente ci sarà il magnete che avvicinerò, allontanerò dal nostro sensore. Vediamo che il LED è spento, adesso avvicino il mio, eccolo qua, vedete che si è acceso, la sentite del campo magnetico, non lo sente più, lo risente, si spegne e si accende. Possiamo notare che il LED su Arduino si accende dopo e si spegne anche dopo, per il semplice fatto che tra un'acquisizione e l'altro del valore c'è un delay di un secondo. Quindi è più immediato il LED collegato direttamente sul modulo che non il LED collegato sul PIME di Arduino. Bene. Ecco fatto. Questo qui è lo sketch del sensore magnetico ad effetto HOLD. Andiamo a debilitare il nostro monitor seriale e come possiamo vedere, per adesso mi dice che non c'è nessun campo magnetico. Non appena collego, faccio in modo che ci sia la presenza di un campo magnetico. Ecco, vedete che il campo magnetico, non campo, dipende se è attivo o non attivo, il mio magnete vicino al sensore. Questo è il risultato che possiamo visualizzare con il comando serial begin e, ovviamente poi riutilizzandolo, mandando un messaggio con il serial print ln. in. In. In.